...di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Visita del generale Figliolo in Calabria, accompagnato dal capo della protezione civile Curcio, insieme hanno fatto tappa a Catanzaro e a Cosenza. Minaccia il procuratore di Paolo Pia, Paolo Bruni, intercettato un colloquio nel carcere tra un recluso e la consorte, e la solidarietà della politica. Pescatori arrabbiati a bagnare a Calabria, sono fermi da due mesi a causa del sequestro del porto che inibisce tutte le attività della marineria. Vibrata la protesta, fa un passo indietro la trattativa tra la Bramo Customer Care, la Heritage, l'azienda britannica e attenzionata all'acquisto. Torna l'incertezza alla Datel. Premio alla professionalità Francesco Latella, direttore di Radio Studio 97, la radio della provincia di Grotone. Glielo ha conferito un rotolico web della città di Pitagora. Sono le 14, benvenuti alla nostra prima edizione per quanto riguarda l'informazione di Esperia. Dunque, l'abbiamo appreso dai titoli. Giornata calabrese per il generale Figliuolo, commissario nazionale per l'emergenza Covid, che insieme al capo della protezione civile Curcio è stato a Catanzaro e a Cosenza. Il generale degli Alpini ha detto che, tutto sommato, in Calabria non si sta operando male, che ora vanno incrementati i punti vaccinali. Buongiorno a tutti. Abbiamo trovato delle buone soluzioni organizzative per incrementare gli hub vaccinali nell'ottica del piano. Queste le prime parole di Francesco Paolo Figliuolo, generale degli Alpini, commissario per l'emergenza Covid, al suo arrivo, questo oggi a Catanzaro, da dove ha iniziato un tour per alcuni centri vaccinali della nostra regione. Il generale ed il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, sono stati accolti in regione e poi hanno iniziato un tour in alcuni centri. A Catanzaro sono stati accolti dal presidente facente funzioni della giunta Spirlì, dal commissario per la sanità, il prefetto Longo, dal prefetto Cucinotta e dal sindaco del capoluogo Abramo. Prima dell'avvio della ricognizione si svolta una riunione operativa al decimo piano del palazzo della regione. Per Figliuolo la vaccinazione non è un problema solo calabrese. Io non è che sia preoccupato per la Calabria, io sono preoccupato per tutte le regioni affinché si possa chiudere il piano vaccinale, come diceva il mio amico Fabrizio Curcio, il capo della ProCi, arrivare al momento giusto ai 500.000. Siamo in linea col piano. Ieri la Calabria ha fatto 7.000 somministrazioni e siamo andati a livello nazionale a 243.000. quindi siamo in linea con il piano. Stanno arrivando, secondo i flussi prestabiliti, i vaccini. Dobbiamo incrementare il numero di hub vaccinali. Qui stiamo incrementando, perché l'altro ieri sono arrivati, a rinforzo di quelli che c'erano, un ulteriore medico e 4 infermieri. Nei prossimi giorni arriveranno altri 2 medici. Stiamo ricognendo gli hub vaccinali per rendere, per implementarli, quindi rendere le operative nel più breve tempo possibile, in modo tale che tutte le regioni arrivino a quel numero previsto di vaccinazioni giorno per raggiungere i 500.000. Sul tema dei temi, che è rappresentato dal rapporto tra autorità centrali e regioni, non ha dubbi il numero 1 della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Il nostro lavoro significa che mettiamo insieme quella che è la valutazione di politica nazionale con quella del territorio. Ieri la conferenza delle regioni ha dato l'ok a un documento congiunto che è del commissario, del capo della protezione civile, del ministero della salute e della conferenza delle regioni che fornisce alcune indicazioni utili per la costituzione di alcuni hub particolari. Quindi noi dobbiamo anche trasmettere quello che è il lavoro che stiamo facendo e quel lavoro d'insieme. Il confrontarsi non significa necessariamente che ci sono problemi, criticità, ma le questioni sono note, stiamo lavorando, aiutateci anche a questo. Sulla situazione calabrese, il presidente facente funzioni, Spirli, sottolinea. I numeri sono più o meno come quelli delle altre regioni. Ci sono regioni del nord molto più attrezzate di noi che ci distanziano di qualche punto di percentuale. Quindi io direi che veramente questo assalto alla Calabria dovrebbe cominciare a finire e lasciare lavorare in santa pace quelli che stanno lavorando per portare avanti una campagna vaccinale che sta portando i risultati. Sono oltre 83 mila su 130 mila gli ultraottantenni che sono stati già vaccinati. Faremo degli hub aggiuntivi come punti vaccinali sui vari territori e chiaramente il loro aiuto per noi è molto importante tant'è che se non lo fosse stato non l'avrei richiesto, non l'avremmo richiesto. A seguito dell'elevato numero di contagi la regione ha istituito le zone rosse nei comuni di Ciro Marina in provincia di Crotone e Oppido Mamertina nel Regino intanto da domani mini lockdown a Corigliano Rossano. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Flavio Stasi. Si allunga l'elenco dei comuni calabresi dichiarati zona rossa sino all'8 aprile Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria e Ciro Marina saranno off-limits. A disporlo è l'ordinanza del presidente della regione facente funzioni Nino Spirli. Le nuove misure riguardano anche la frazione P-minoro di Oppido Mamertina per la quale erano già state imposte restrizioni con l'ordinanza del 12 marzo. L'ordinanza si è resa necessaria in seguito alle comunicazioni dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali di Reggio Calabria e Crotone con le quali è stato confermato che l'incidenza dei casi confermati nell'ultima settimana nei due comuni supera i valori individuati nel DPCM del 2 marzo scorso. Il provvedimento dispone che i dipartimenti di prevenzione delle due ASP competenti procedano al costante monitoraggio della situazione epidemiologica locale segnalando tempestivamente all'unità di crisi regionale ogni significativa variazione. Intanto da domani mini lockdown a Corigliano Rossano. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Flavio Stasi visto il non attenuarsi della diffusione del virus in città afferma il primo cittadino l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica in tutta la provincia ed in assenza di altri provvedimenti a livello extracomunale in via precauzionale ho deciso di emanare un'ulteriore ordinanza con nuove più stringenti misure contro la diffusione del contagio da Covid-19. Le nuove misure prevedono la chiusura di tutti gli esercizi non essenziali la chiusura di ogni attività nei giorni feriali alle 19 la chiusura di ogni attività nelle ore pomeridiane di sabato e durante tutta la giornata di domenica le attività di ristorazione durante le ore serali possono continuare ad esercitare solo a domicilio viene ribadito il divieto di ingresso ed uscita nel territorio comunale se non per comprovate ragioni di necessità l'obbligo di munirsi di autocertificazione anche per circolare all'interno del territorio comunale consentito solo per ragioni di necessità oggi in 60 città si sono svolte le mobilitazioni per lo sciopero nazionale della scuola con lo sciopero della didattica a distanza da parte di studenti e docenti per chiedere la riapertura in presenza in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici dal nido alle università la mobilitazione è stata indetta da priorità alla scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato dai Cobas a cui ha dato alla sua adesione il coordinamento nazionale precari scuola è stato chiesto anche che una parte consistente del recovery fund sia riservata al rilancio della scuola pubblica servizi educativi per l'infanzia scuola dell'obbligo superiori di secondo grado dal nido all'università il diritto allo studio deve essere tra le vere priorità del paese chiesto inoltre di garantire un incremento della spesa pubblica portandola almeno ai livelli della media europea pari al 5% del prodotto interno lordo la lentezza delle vaccinazioni in Calabria con una piattaforma delle prenotazioni che non funziona bene hanno spinto il sindaco di Castrovilla da scrivere alla regione vediamo vaccinazioni anti-covid del sindaco di Castrovilla Rimimolo Polito scrive agli organismi regionali rilanciando ruolo e capacità dei comuni rispetto alla non funzionalità del sistema centrale di prenotazioni che rende difficile il raccordo con ultraottantenni e soggetti fragili a recarsi nei luoghi dove vengono prenotati che spesso sono fuori provincia qualcuno è stato prenotato nella provincia di Catanzaro qualcuno in quella di Vibbo ieri mi dicevano addirittura nella provincia di Reggio Calabro è chiaro e evidente che questo sistema che non ha nulla di chiaro e di intellegibile non favorisce soprattutto i soggetti che in questa fase sono i destinatari perché prioritari della vaccinazione vale a dire gli ultraottantenni e gli estremamente vulnerabili bisogna rivedere il sistema almeno per quanto riguarda queste categorie continua il meccanismo precedente che dava maggiore autonomia ai distretti sanitari ci ha portato a vaccinare quasi tutti gli ultraottantenni in questo territorio siamo sopra l'85% di fatto in questo periodo si stanno facendo già i richiami con un'organizzazione precisa che chiama le persone e stabilisce il giorno ma soprattutto lo fa all'interno dello stesso comune immaginiamoci quei comuni piccoli periferici già penalizzati dal fatto di essere all'interno praticamente di zone dell'entroterra recarsi fuori regione fuori provincia non tutti hanno parenti che li possono accompagnare e allora in questa fase il sistema della piattaforma non funziona è chiaro che noi chiediamo trasparenza che vengano effettivamente garantite le priorità ma in questo eccellente pubblico che è appunto il distretto sanitario che garantisce questa trasparenza e queste priorità da sottolineare che il comune di Castrovillari aveva chiesto alla regione senza alcuna risposta la possibilità di realizzare sul territorio un centro vaccinale utilizzando la caserma Ettore Manes dopo aver avuto le disponibilità il reggimento della brigata Garibaldi ci ha dato la disponibilità di utilizzarlo non abbiamo avuto alcuna risposta da chi doveva sottoscrivere il protocollo che io stesso mi sono premurato di inviare e allora se vogliamo arrivare a quell'obiettivo di 500.000 come dice il presidente Draghi quotidiano noi dobbiamo davvero rendere protagonisti i territori e le municipalità che conoscono le esigenze dei propri cittadini apriamo la pagina della cronaca intercettato mentre parla la moglie minaccia il procuratore di Paola Pierpaolo Bruni si tratta di un detenuto recluso nel carcere di Paola che deve scontare sei anni per un procedimento di indrangheta la solidarietà bipartisan per il magistrato da parte della politica ancora minaccia all'indirizzo di Pierpaolo Bruni il capo della procura di Paola l'avvertimento per il magistrato è stato intercettato in un audio e in alcune immagini in un colloquio tra un detenuto e la moglie nel carcere di Paola che non lascerebbero dubbi all'intenzione di ostacolare e delegittimare l'operato del magistrato parole ma anche gesti appartenenti ad un linguaggio non verbale estremamente chiaro scambiato tra il detenuto e la consorte che evidenzierebbero la volontà di mettere in atto ritorsioni nei confronti del procuratore il detenuto coinvolto nell'intercettazione deve scontare sei anni di carcere perché implicato in una precedente indagine della DDA condotta sempre dal procuratore Bruni quando si occupava del territorio crotonese e inoltre è coinvolto nel procedimento scaturito dall'inchiesta Tonno Rosso che alcuni giorni fa ha fatto registrare tre condanne e un rinvio a giudizio solidarietà al procuratore Bruni è stata espressa dal senatore di Italia Viva Ernesto Magorno parole orrende da condannare la Calabria che vale stacco gli operatori di legalità un messaggio di vicinanza anche da parte del vicepresidente della commissione regionale anti-ndrangheta Graziano Di Natale atto gravissimo Bruni e colonna portante nella lotta all'andrangheta non va lasciato solo anche la deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico ha manifestato la sua solidarietà dal suo profilo Facebook il procuratore della Repubblica di Paola Pierpaolo Bruni è un magistrato che lavora con dedizione per contrastare la criminalità organizzata in un territorio meraviglioso e difficile come il Tirreno Cosentino dove interessi oscuri di pochi hanno creato una cappa sulla testa di un'intera comunità a Bruni esprimo vicinanza e solidarietà non lasciamo solo chi combatte l'andrangheta un migliaio di capi di abbigliamento contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza sono stati donati alla Caritas Diocesana di Lamesia Terme la consegna avvenuta nella sede dell'Arci Diocesi di Lamesia la presenza del Vescovo Monsignor Schillaci e del direttore della Caritas Diocesana Don Fabio Stanizzo le fiamme gialle hanno donato in particolare 1300 capi di abbigliamento tra magliette e pantaloni sequestrati dal gruppo di Lamesia Terme nel corso di un'operazione volta a contrasto dell'abusivismo e del commercio illegale di merce contraffatta l'iniziativa è il segno del costante impegno del corpo a favore della collettività anche attraverso iniziative benefiche verso i più bisognosi sono fermi da quasi due mesi i pescatori di Bagnara perché il porto di recente è stato sequestrato e anche le barche sono state bloccate per questi motivi la marineria bagnarese ha organizzato una protesta siamo qua perché devono prendere atto immediatamente il sindaco che noi vogliamo lavorare abbiamo i figli un mese e mezzo che non lavorano le barche nostre sono sequestrate non sappiamo perché basta vibrante protesta in piazza a Bagnara la manifestazione è stata organizzata dalla marineria locale il porto è sotto sequestro per accertare i reati ambientali e quindi resta bloccata l'attività di pesca che rappresenta una fonte primaria dell'economia bagnarese momenti di tensione davanti al palazzo San Nicola abbiamo perso la stagione non c'entra niente subito i fatti oggi di qua non ce ne andiamo oggi di qua non se ne va nessuno no 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 oggi di qua i fatti come un giurista non è venuto lo dovete aprire dal secondo fateci lavorare hanno gridato forte le donne perché siamo fermi da un mese e mezzo e ormai la stagione di pesca è andata in fumo vogliamo che ci liberano le barche per andare al mare le barche che dobbiamo andare al mare non vi chiediamo niente è un mese e mezzo siamo distrutti siamo arrivati siamo arrivati dobbiamo liberare il porto di Bagnara abbiamo arrivato noi abbiamo due mesi ci stanno prendendo per Fornelli non si può uscire per pescare un porto chiuso di Bagnara dobbiamo venire a liberare il porto di Bagnara il porto libero a noi non ci deve essere i miliardi che ci danno noi vogliamo lavorare veniamo dopo la convalida dei sigilli l'amministrazione comunale guidata da Gregorio Frosina ha annunciato di aver provveduto ad attivare l'iter per chiedere di sbloccare almeno le imbarcazioni così da permettere alle tante famiglie di pescatori di tornare a lavorare ma dopo settimane le risposte ancora tardano ad arrivare tutti noi siamo concordi nel dire che i pescatori devono andare a lavorare è fondamentale perché la pesca per Bagnara è una cosa prioritaria siamo concordi nel cercare di sbloccare al più presto possibile per far andare a lavorare il fondo Eritage ha ritirato la proposta per l'affitto a termine della Bramo Customer Care la società irlandese ha comunicato al Tribunale di Roma e agli organi competenti di non ritenere più valida ed effettiva l'offerta di affitto d'urgenza presentata lo scorso 18 di febbraio decisione assunta dalla mancanza dei riscontri definitivi rispetto alla proposta avanzata per Orlando Taddeo direttore di Eritage la data era connessa ad un'importante scadenza inerente il business aziendale lo stato dell'azienda e l'incertezza rispetto al suo futuro non hanno permesso ad Abramo di partecipare ad alcuna commessa incidento quindi in maniera negativa su un fatturato deficitario per l'azienda solo un affitto ponte d'urgenza in attesa dell'asta per l'acquisto avrebbe potuto consentire di mantenere integro il valore di mercato di Abramo tuttavia l'azienda mostra ancora il proprio interesse e la propria disponibilità a valutare la partecipazione ad un'asta finalizzata all'acquisto d'urgenza della società la regione viene incontro alle difficoltà che vivono a causa della pandemia i tanti operatori del cinema delle discoteche dei bar e quanto assicura l'assessore regionale Fausto Orso Marso è stata definita la concessione degli aiuti economici agli aventi diritto attraverso la misura Ristora Calabria indirizzata al sostegno di cinema discoteche teatri bar degli istituti scolastici superiori e attività commerciali ubicate negli aeroporti colpite dagli effetti delle misure di contenimento adottate dal governo a causa dell'emergenza covid con queste misure complementari e aggiuntive rispetto ai ristori previsti dal governo spiega l'assessore regionale alle attività economiche Fausto Orso Marso abbiamo voluto dare un ulteriore sostegno al sistema economico calabrese attraverso contributi di 5 e 10 mila euro ad impresa per mitigare la perdita di fatturato di alcune delle attività più colpite dalle limitazioni spesso ingiustificate imposte dal governo penso al mondo della cultura dei cinema dei teatri all'industria del divertimento alle attività commerciali degli aeroporti che hanno subito il calo drammatico dei passeggeri si tratta di contributi conclude Orso Marso che la regione ha messo in campo per aiutare a resistere alla crisi quelle imprese che saranno poi fondamentali per la ripartenza con competenze le esperienze e professionalità che non vanno disperse Nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascita dall'unità d'Italia e un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra lo rileva l'Istat nel report la dinamica demografica durante la pandemia Covid-19 anno 2020 è diffuso oggi lo scorso anno sono stati scritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini e cancellate per decesso 746.146 persone la geografia delle nascite mostra sottolinea l'Istat un calo generalizzato più accentuato al nord-ovest e al sud la politica oggi diamo un nome un simbolo ad una delle liste civiche che sosterrà la mia candidatura si tratta di una lista civico-politico che unisce donne e uomini credibili in quanto espressione di storia personale o collettive di lotta per i beni comuni per l'ambiente per la giustizia per i diritti civili si presenta così la nuova lista a sostegno del candidato governatore Luigi De Magistris dopo diversi mesi di rodaggio il sindaco di Napoli ha messo insieme una squadra di persone che hanno il coraggio di andare oltre le bandiere e gli schieramenti tradizionali che lottano per la difesa dei territori dalle distruzioni ambientali dalla resistenza contro le ingiustizie e contro le organizzazioni criminali l'assessore all'ambiente Sergio De Caprio sta lavorando per fare in modo che venga istituito il Geoparco della Calabria vediamolo insieme istituire il Geoparco della Calabria composto a tutti i comuni in cui sono presenti grotte e cavità archeologiche millenarie è la proposta lanciata nel corso dell'incontro in cittadella a cui hanno partecipato l'assessore regionale ambiente Sergio De Caprio i sindaci dei comuni che ospitano queste riserve naturali lo speleologo Felice Rocca e il direttore dell'agenzia del demanio della Calabria Dario De Girola durante la riunione è stato anche approvato un cronoprogramma che prevede la schedatura dei siti come primo passo fondamentale per l'istituzione del Geoparco il Geoparco è un'idea che dobbiamo e che vogliamo condividere con i sindaci della Calabria con le comunità della Calabria con il professor La Rocca con le università con quelle persone che credono che le risorse naturali della Calabria al di sopra del suolo ma anche al di sotto del suolo sono vettori di turismo che deve essere costruito attraverso la conoscenza attraverso un'offerta turistica strutturata e i nostri parchi devono essere centrali di turismo naturalistico e archeologico per riportare la Calabria la bellezza della Calabria i valori della Calabria al centro del Mediterraneo il centro del Mediterraneo è il nostro posto e il turismo che dobbiamo costruire di tutela e di valorizzazione è il turismo del Mediterraneo quindi dobbiamo riprendere questo ruolo lo faremo anche insieme al mondo delle università i sindaci non solo sono io al fianco dei sindaci non i sindaci al mio fianco e faremo una bella Calabria Premio alla professionalità Francesco Latella direttore di Radio Studio 97 lo ha conferito il Rotary Club di Crotone un riconoscimento professionale e personale quello che Rotary di Crotone ha manifestato nei confronti di Francesco Latella premiandolo con la targa intitolata all'ex presidente rotariano Pasquale Scalise un attestato all'eccellenza e alla professionalità per Latella e per la sua emittente radiofonica Radio Studio 97 che ormai da qualche decennio irradia informazione e musica in tutta la provincia crotonese il presidente Fabrizio Zurlo ha così motivato il premio alla Latella la targa della professionalità ormai è un premio antico e consolidato che il Rotary Club di Crotone dà alle più grandi professionalità del territorio quest'anno la scelta è ricaduta su l'amico Francesco Latella Radio Studio 97 proprio perché il Rotary ha pensato che in un momento così difficile il momento di pandemia che stiamo vivendo il momento di lockdown totale che abbiamo vissuto i media e soprattutto la radio ha portato nelle case di noi cittadini crotonese e degli italiani un po' di spensieratezza con la musica ma anche di giusta informazione e non c'è da dimenticare che la professionalità di Francesco Latella e Radio Studio 97 portano sempre un pezzetto di crotone in tutta Italia quindi quale migliore motivazione poca emozione ma tanta soddisfazione per Francesco Latella che dal 2004 dirige l'emittente fondata dal padre Piero sì nel 2004 quando ho avuto la fortuna di ricevere il testimone da mio padre che ad un certo punto insieme a lui ovviamente ancora tuttora ho avuto questa fortuna di dirigere questa radio ho detto io voglio essere la radio di crotone e provincia voglio fare questo assolutamente quindi ho fatto in modo che questa radio diventasse sempre più la radio di questo territorio dei crotonesi perché attraverso crotoni calcio spiagge Sanremo Bruxelles Strasburg abbiamo attuato una serie di progetti positivi dove abbiamo portato la nostra crotone la nostra provincia crotonese perché poi ci siamo mossi un po' in tutta la provincia lì dove c'erano cose buone da fare da vedere da far sentire Emozione? Emozione no guarda assolutamente no perché ti ripeto io metto un passo un piede uno di fronte all'altro quindi è una cosa naturalissima per me Per te Emozioni resta solo un titolo di un disco? Bravissimo anche quello o la canzone perché alla fine ogni canzone dentro di noi tocca dei tasti molto particolari quindi a ognuno il suo genere ecco perché non esiste bello o brutto ma esiste ognuno il proprio genere e anche la nostra radio è un genere non possiamo accontentare tutti non possiamo essere la radio di tutti quanti ovviamente però siamo contenti di essere scelti abbiamo circa 40.000 ascoltatori a settimana che scelgono Radio Studio 97 e quindi Crotone Provincia grazie ancora a Rotary e a tutti quelli che ovviamente sono la nostra famiglia ai miei collaboratori ai nostri collaboratori che impegnandosi anche in questa fase Covid siamo stati sempre comunque sul pezzo Grazie Francesco Rebici e adesso in chiusura come sempre andiamo a guardare cosa ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda le previsioni del medio Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà un sistema nuvoloso atlantico avvicinarsi all'Italia e in effetti la situazione tenderà in parte a peggiorare nelle regioni settentrionali controlliamo infatti la nuvolosità a terra sul nostro paese ecco questa perturbazione che porterà nuvole soprattutto vi dicevo al nord ma anche l'Italia centrale vedrà passare degli ammassi nuvolosi principalmente però si tratterà di nubi alte quindi nel centro Italia poche le conseguenze controlliamo le precipitazioni che potrebbero arrivare sul nostro paese coinvolto principalmente l'arco alpino anche la fascia prealpina e l'alta pianura qualche goccia anche tra Levanti Ligua e l'alta Toscana per il resto non prevediamo grandi precipitazioni quindi in definitiva c'è dentro un sabato un po' più nuvoloso al centro nord quello sì qualche pioggia dicevamo sulla fascia alpina prealpina alta pianura padana che dalla parte occidentale si muoverà poi verso le regioni di nord-est e qualche goccia di pioggia anche tra Levanti Ligua e l'alta Toscana per il resto vi dicevo un po' di nuvole sì ma non mancheranno anche delle schiarite temperature abbastanza miti soprattutto stavolta al sud per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo le 14.29 siamo in chiusura per gli aggiornamenti vi rimando all'edizione delle 20.30 però restate qui